Situato sul sentiero Alta Via Cinque Terre, il rifugio è facilmente raggiungibile a piedi, dieci minuti dal punto geolocalizzato parcheggio Muzzarone. La vista sul Golfo dei Poeti e sull'isola Palmaria, specialmente nelle giornate di sole, è veramente fantastica. Il posto ha un sapore spartano e casereccio. Ci si siede, si ordina un buon vino e si attende di gustare i piatti della tipica cucina spezzina. Molto buoni sia gli antipasti, maremonti, che i primi piatti. Il menù varia a seconda delle stagioni ed il rifugio è aperto tutto l'anno. Dopo un caffè rigorosamente fatto con la moca da Ettore, siamo pronti di partire. Porto Venere è a 15 minuti.